E benvenuti, sono Joe e bentornati, sono video di Pokémon GO! Bomberoni, la meteo in questo periodo è veramente assurda, un giorno piove, un giorno sole! Ma nelle vostre città, la meteo fa anche così la matta? Allora Bombers, partiamo, attenzione perché come potete vedere, ammazza le pozze che ci sono qui Ho già messo la Roma Aventura, a caccia di un leggendario di Galar, non diciamolo troppo forte raga Non andiamo a gufarcela perché è una roba incredibile, allora spawna qualcosa, spawna E a proposito proprio di leggendario di Galar raga, ditemi qual è stato il vostro ultimo che avete catturato O in alternativa che avete visto che vi è spawnato perché come sappiamo la loro cattura è veramente molto difficoltosa Ma allora abbiamo ancora 7 minutini, dopo vediamo se mai se utilizzare l'effetto di Dialga per prolungare il tempo raga Che l'abbiamo fatto anche nel video precedente, attenzione, timbretto, timbretto, molto bene ragazzuoli, molto bene Timbriamo, timbriamo, qua queste qui intanto le tengo raga, le tengo queste qua delle monetine Poche monete che si trasformano in tante monete alla fin fine raga, infatti siamo arrivati, vediamo un attimino a 4808 poche monete, staremo poi a vedere quante ne faremo alla fine di questa missioncina che ha ancora 9 giorni e 8 ore raga Eccola qua, infatti riceverai una missione di ricerca sul campo che ti permetterà di ottenere 20 poche monete al giorno Se non hai più di 3 missioni, attenzione, di ricerca sul campo attive, infatti ragazzuoli io tengo sempre d'occhio qua E come potete vedere, porcaccia di quella miseria, ho ancora questa qua del community day di Bonesweet Io raga intanto la sto tenendo qui così vediamo se magari con fortuna troveremo selvatico appunto la melina Oggettini, oggettini, missioncine, prendiamoci tutto ragazzuoli e anche qua poi voglio andare a completare un bel po' di missioni Perché come sapete raga tra meno di un mese sarò presente al GoFest di Madrid Infatti dovrò fare una bella preparazione raga per il nostro eventuccio perché sto messo molto male con il box pokemon Guardate qua, c'è un dito, ma questo dito qua quando l'abbiamo catturato oggi raga? Queste qua sono le catture di adesso e la pvp addirittura magari Vedete quando non si cercano le cose spuntano così a casaccio raga, vengono da sole da noi Però poi chiaramente anche la borsa raga, vediamo un po' gli strumentini, eh, una bella pulizia anche qua magari da ottenere un po' più di pokeball Megaball stiamo messi abbastanza bene ma le ultraball raga voglio arrivare la Madrid almeno con mille E poi chiaramente faremo una bella pulizia degli altri oggettini Allora Bombers nel mentre che camminiamo vediamo se frutta qualcosa questo aroma avventura abbiamo ancora 4 minuti Vediamo un attimino le missioncine qua, ah questa qua ce la possiamo prendere quella di Shaming Shiny raga Possiamo completarla, dai Burmi cosa l'è? Normale Cattura rapida molto bene perché è Burmi raga, queste forme qui non si capisce neanche, c'è praticamente lo Shiny è uguale alla forma normale Infatti questo, normale, catturati tutti, vediamoli un attimo, molto bene raga, molto bene Possiamo passare al quarto step, aroma noi, aromino, aromino, 30, eccole qua, farmiamole, farmiamole Una caramella rara L, molto bene, come sempre, ottimo lavoro giù, grazie prof, grazie prof E ormai ci incarichi sempre delle missioncine un attimino Molto facile dove riusciamo a completarle ma io ormai ho i miei tempi, eh, mi conoscete raga Mi conoscete infatti dov'è la missione, vediamola un attimo, ricerca magistrale Eccola qua, gli stickers, ci dà gli stickers, lancia 40 curve, eh, ok, allora, tutto di lanci raga questa missione Però devo dire, tanta roba, le ricompense sotto, i tre moduli esca Comunque raga, a proposito di concorsi, se io vado ad esempio sotto il mio zigardolo Eccolo qua, il nostro zigard 10, 51 punti lotta che l'avevo catturato l'anno scorso a Malaga Guardate che bellezza raga, malaghino Come sappiamo per ottenere queste cellule, raga, che io attualmente ne ho 36 Come potete vedere qua, caramelle L di zigard 3, non so come lo farmate Praticamente dobbiamo seguire i percorsi, abbiamo visto che in una giornata possiamo ottenere al massimo tre cellule In caso bomberoni non avete visto il video dedicato, che ho fatto una sorta di guida Ve lo lascio qua sopra nelle schede e recuperatelo Perché infatti se io adesso volessi andare a fare l'evoluzione del mio zigardolo Porcaccia di quella miseria, raga, vedete che non ho abbastanza cellule Eh sì, perché è quasi l'unico pokemon, raga, che al posto delle caramelle normali necessita per fare la sua evoluzione Queste cavolo di cellule, raga, e vedete 50 me ne necessitano e ne servono ancora 14 Per fare la prima evoluzione, dopo 200 per andare a fare l'evoluzione finale, raga E sì, avete capito bene, quindi 250 totali Appunto poi nel video dedicato, raga, vi avevo detto precisamente quanti giorni servono per farmare le sue cellule Proprio sui percorsi oggi è arrivata una novità, non so se chiamarla grande piccola novità, raga Questo decidetelo voi sotto nei commenti Se andiamo, ragazzuoli, sotto il nostro avatar, eccolo qua Medaglie, medaglie, andiamo in basso, in basso, in basso Dove l'avrà messa? Non ne ho idea In caso vi lascio qua, raga, anche la schermatina di gameplay che ho registrato Eccola qui, viaggiatore esperto Completa i percorsi 200 volte, raga, per praticamente farla oro Mentre per platinarla, 600, 600 volte i percorsi dobbiamo fare, ragazzuoli Io momentaneamente sto messo malissimo Perché vedete, ho praticamente la bronzo e la medaglia argento Perché siamo arrivati a 59 su 600, raga E questa qui appunto è la medaglia viaggiatore esperto E su questa medaglia fatemi sapere a quanti percorsi completati siete Perché sono molto curioso Allenatori, allora ci siamo, mi sono deciso Adesso andiamo a catturare un bellissimo Pokémon misterioso E di chi mai starò parlando, bomberoni? Allora, andiamo sotto alle missioncine, innanzitutto Tutto a destra, dunque Luce chi di gratitudine appunto è la missione dedicata a Shemin e Shiny, quindi teniamola qui Anche perché non posso andare avanti, ragazzuoli Mentre questa qua, ricerca ma ci sta chiappando È quella della Master Ball Anche questa qua è una settantina ancora più o meno di Pokémon Da catturare, mentre scorrendo in basso Eccola qui Allenatori, minaccia nella giungla Missione dedicata alla giungla O al film che è uscito cos'era l'anno scorso Appunto su Netflix, ragazzuoli Molto bello, molto simpatico Allora, raga, eh sì Andiamo alla cattura del mio secondo Zarud Perché chiaramente, raga, ne avevo già catturato un altro Che lo vediamo subitissimo Andiamo a vederlo, raga, Zarudis Zarude Eccolo qua, 16-10 punti lotta Non ricordo se l'avevo maxato o cosa Come mosse conosce Morso e vigor colpo Ok, teniamole queste qui, raga Tanto non so se lo utilizzerò o cosa Però mi hanno detto che è un buon attaccante Molto forte la sua percentuale, vi, raga È questa qua Una schifezza Cioè, tre stelle, sì Non lamentiamoci però Speriamo con quello di oggi Di trovarlo nettamente più forte E che cacchio Non è che cerco lo shundo Anche perché non c'è ancora lo shiny Ma allora, raga Giriamoci Dischi foto Qua Dei pokestop Prendiamoci oggettini Oggettini Da ultra ball Qualche ultra ball Porcaccia, raga Zero ultra ball Molto, molto rare, eh Queste ball Eccola qua Minaccia nella giungla Allora, raga Completiamo Andiamo a prenderci prima Le due ananas argentate Che io ne vado ghiotto Se è possibile Vado a farmare le ananas argentate Perché sono molto più potenti Di quelle normali Dieci caramelle di Zarud Eccole qui Mettiamole in sacoccia E abbiamo un check Che sinceramente Non so qui, raga Non ricordo il cacchio, eh Vediamolo Shiny Hai lui? È lui? No, cos'è? Cos'è? Ah, modalità R, raga C'è la modalità A Eris Che vediamo che ci spunta fuori Qua Allora Absol Ok, poteva anche essere shiny Vediamolo Catturato, raga Catturato Absol Che bello Però è da un po' Che non utilizzo Questa schermata di AR Plus Porcaccia Schifoso Schifoso Via Quindi trasferiamolo E siamo pronti? Perché sì Adesso ci spunterà fuori Zarud, raga Eccolo qui sotto Andiamo a prenderci Quindi Mille Se ce le fa vedere Di polvere di stella Tre caramelle L Zarud E Un incontro con È proprio lui, raga Attenzione Vediamolo un attimo Bomberoni Allora andiamo alla cattura Attenzione Ecco qui Il nostro Zarude Zarudis Possiamo andare Per queste poche volte, raga Perché di solito Come proprio ieri Abbiamo catturato Poipol Senza l'utilizzo Delle bacche In questo caso Ragazzuoli Possiamo andare A dargli Che bellezza Finalmente Un'ananas Che potevo magari Andare a dargli anche L'argentata Che abbiamo appena farmato Con che ball andiamo Cosa facciamo Ma io andrei, raga Con ultra ball Così almeno speriamo Che rimane dentro Abbastanza subito, raga Attenzione Andiamo Che tiro da schifo Che tiro da schifo Attenzione ragazzuoli Eccola lì la ball Rimane subito Tre 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 Preso Preso Ecco lì, raga Il nostro Zarudis Preso Molto bene Abbiamo raddoppiato la prima Avete visto È stato dentro Tanta roba 16.06 16.06 Ho già capito, raga Che è più scarso Porcaccia Non lo valuto neanche Vediamo un attimino Zarud Ed ecco qui, raga Eh, raga Lo vedo già dai punti Lota che fa appena Perché l'altro era 16.10 E faceva schifo Cacchiarola Questo qua 16.06 Neanche un 15 in attacco Però tre stelle, raga Tre stelle Eh, teniamolo così oramai L'altro invece Era andato a catturarlo Con pokeball, raga Ci è andata Veramente, veramente male E poi teoricamente Ma anche in pratica Zarud appunto È un pokeball misterioso E quindi Il che vuol dire Non si può scambiare E allora Bombersi Adesso andrò a effettuare Qualche percorso Così da andare avanti Con le cellule di Zigard Per poi fare la sua evoluzione Ma chiaramente anche Con la medaglia Che è arrivata oggi in game E voi lanatori Il vostro Zarud Con quale percentuale Vi l'avete trovato E per oggi Bombers Da Gamer Joe È veramente tutto E mi raccomando Iscrizione al canale Per rimanere sempre aggiornati E se il video raga Vi è piaciuto E vi è stato utile Vi invito a lasciare Un bellissimo like Gamer Joe vi saluta E ci vediamo alla prossima Ciao Bombers Grazie a tutti